Onorevole Nicola Molteni, il Partito Democratico e alcuni esponenti del PDL vogliono che venga portata avanti fin da subito una legge sull'omofobia. La Lega Nord che cosa ne pensa? La Lega Nord è fortemente contraria, innanzitutto perché la priorità e le priorità del Paese sono altre. Oggi noi dobbiamo occuparci di lavoro, giovani, occupazione e il problema non è certamente rappresentato dalla necessità di fare una norma sull'omofobia. Questa norma è una legge che crea una discriminazione al contrario. Per sanare una discriminazione si creano altre forme di discriminazione verso soggetti lievoli, pensiamo agli anziani e minori. La Lega si è opposta perché questa legge non è nulla di più che il compromesso vergognoso e a ribasso tra PD, PDL e SL. Questa norma limita fortemente in quanto viene inserita all'interno della legge Mancino Reale, che è una legge liberticida che limita e sopprime la libertà di pensiero e d'opinione. È una norma che si inserisce all'interno della costituzione di un nuovo reato, di una nuova fattispecie di reato e quindi l'opposizione nostra è un'opposizione durissima. Noi crediamo che le discriminazioni tutte debbano essere contrastate con forza, ma non agendo sul diritto penale, bensì attraverso una prevenzione, attraverso un'azione di natura culturale, attraverso l'educazione, investendo risorse e non agendo sulla norma penale.